Il linguaggio delle emozioni è il tema scelto per l'edizione 2024 dei Cantieri dell'Immaginario, un programma di big e tante arti, quello messo in campo dal Comune con il direttore artistico Leonardo De Amicis che si appoggia per l'organizzazione al TSA. Si parte l'8 luglio, si termina il 6 agosto, alla presentazione in Comune anche Flavio Insinna che sarà protagonista di una delle serate, una parata di stelle per gli spettacoli Ben 33 che si snoderanno tra la scalinata di San Bernardino e l'auditorium del Castello, danza, teatro, musica, cinema e letture. Gli artisti sono a loro agio, si trovano in un ambiente come dire protetto che è quello dell'arte, che è quello del rispetto per questa parola. Quindi la cultura ha la base di tutto, i miei festival, inutile che ve lo ripeto per l'ennesima volta, sono trasversali, la mia idea di veicolazione è trasversale, è aperta a tutti, a tutti i livelli. Il TSA ormai è da tempo partner, coordinatore di questo evento importantissimo, ormai un appuntamento fisso per non solo gli Aquilani ma per tutte le persone che vogliono godere di una manifestazione così completa, che abbraccia tutte le arti. e questo fa bene, fa bene alla città, al pubblico, perché come giustamente il sindaco Biondi ha detto prima, la cultura non può che essere le fondamenta di una città, di una cultura, di tutti noi. Ora, il TSA è da tempo ormai che sta lavorando duramente nella progettazione di spettacoli e più là anche pensando alla capitale della cultura, quindi è un progetto che ha radici lontane ma che vede il suo arrivo nel 2026. Tra gli artisti Simone Cristi Chiamara, Viola Graziosi, Matt Sangioni, il Banco del Mutuo Soccorso, Antonella Ruggero, Cristiano De Andrè, Gabriele Cirilli, Danilo Rea, Max Giusti, Enzo De Caro, Dargen Namico, Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Giussi Ferreri, con gran chiusura di Francesco Renga e NEC, ci saranno anche compagnie locali sul palco, protagonista pure la grande danza. Tutte le istituzioni culturali Aquilani hanno messo in campo il meglio della loro progettualità, raccogliendo la sfida della contaminazione. Uno e due spettacoli saranno portati in due comuni molto colpiti dal sisma, uno del 2009 e uno del 2016, Villa Sant'Angelo e Campo Tosto.